Salve a tutti, sono Margherita Gatta, Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale. Vi dico subito che ho intenzione di onorare il mio mandato attuando quei principi che ritengo fondamentali che sono quelli della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa. Si tratta di un compito molto difficile perché mi sono resa conto che per avere dei risultati davvero visibili bisogna che sia molto incisiva nello snellire soprattutto le procedure aggiornandone anche i contenuti in modo da avere dei risultati che siano davvero aderenti a quelli che sono i bisogni concreti della città e dei suoi cittadini. Un esempio è la revisione di tutta la documentazione di gara relativamente a tutte le procedure. Sto iniziando da quelle che riguardano la manutenzione stradale che sono quelle più urgenti. Sto facendo in modo che questa documentazione sia innanzitutto aggiornata rispetto al nuovo codice dei contratti pubblici ma anche che vi siano inseriti tutti i criteri di tutela ambientale e anche le condizioni di aggiudicazione desidero che siano maggiormente attente a un'effettiva qualità dell'esecuzione dei lavori. Ovviamente i risultati di questo lavoro non saranno sempre immediatamente visibili ma saranno sicuramente duraturi. Soprattutto il sistema che ho in mente di costruire non prescinde da una solida collaborazione con il personale del Dipartimento e da una forte sinergia con gli altri Dipartimenti e i loro Assessori. L'incarico che mi è stato conferito dalla Sindaca mi rende orgogliosa di far parte di questa squadra.